Siamo basciati dal sole, una splendida giornata di sport perché qui a Montepaone si gioca la Coppa Calabria tra le vincenti dei quattro giovani di prima categoria, Atletico Morrone, Maria in Schiavonea, Città di Rosarno e Montepaone. Presidente Mirarchi, innanzitutto siamo felici perché c'è tanta gente che sta godendo dello sport del calcio, questa è una vittoria anche vostra? Assolutamente sì, giornata caldissima quindi piuttosto che stare a mare perché era anche piacevole stare a mare, avere invece tanta gente al seguito delle nostre squadre ovviamente riempie di soddisfazione noi ma credo anche voi che vi occupate di sport, insomma direi di sì, diamo soddisfazione a queste nostre realtà, a questi nostri ragazzi per quello che poi alla fine hanno fatto durante l'anno. Insomma è la festa del calcio, quindi a questo punto il risultato finale, il fatto che il Montepaone per esempio non ci abbia fatto e quindi la finale sarà tra Morrone e Maria in Schiavonea, conta poco, però le cose sono organizzate bene, avete preparato tutto come in Serie A ci stanno coppe, striscioni, è tutto perfetto? Assolutamente sì, dispiace chiaramente per la squadra del posto perché avrebbe, se non altro per lo sforzo organizzativo, meritato di disputare quantomeno la finale però va benissimo così, stiamo festeggiando le quattro realtà che hanno vinto il campionato di prima categoria che l'anno prossimo si cimenteranno in un campionato credo prestigioso e ancora più impegnativo e noi cerchiamo di essere e dare a loro le giuste soddisfazioni anche con quelle piccole cose che appartengono poi al momento clou che sarà il momento della premiazione. E dicevamo un Frabotto Manis praticamente sold out, tutto esaurito, una giornata bellissima ma soprattutto delle bellissime tifose sono tutte tifose del Morrone, le abbiamo viste prima e sono scappate Signora, siete venuti in massa perché tifate per? Eh, Morrone! Mi sembra che sia andato bene, è arrivato in finale Beh, penso che senza nulla togliere all'altra squadra alla fine se lo sono meritato la vittoria E noi incrociamo le dita, non sappiamo come finirà la finale però soprattutto questo è il calcio che ci piace, tanti ragazzi, tante signore e tanto tifo corretto Certo, sempre forza Morrone E sempre andando alla ricerca di tifose che non scappano mi sa che qui abbiamo più che una tifosa una fidanzata di calciatore che è merce rara Chi è il calciatore che sta abbracciando? Casciaro Niente po' di meno, Casciaro, lei lo sa che il suo fidanzato, penso sia, ha fatto 40-50 gol 50? Oggi doveva essere il 51esimo ma era? Non so cosa Ma non è che si è conservato per la finale? Vedremo, non lo so, io non dico niente, sono scaramantica Perfetto, Casciaro, allora nel caso di un gol in finale, perché qui siamo nell'intervallo tra le varie partite lo dedichiamo alla fidanzata, come si chiama la fidanzata? Manuela, lo dedichiamo alla fidanzata, alla mamma che oggi è la festa della mamma quindi facciamo una divisione E devo intervistare anche la mamma E allora intervistiamo anche la mamma, signor Siciliano E scusate abbiamo fidanzata e mamma di Casciaro, mica ce le facciamo scappare Ma insomma tutta la famiglia a seguire il calcio e a tifare per Casciaro e per il Morrone Sicuramente sì, anche perché è la seconda partita che io vedo del campionato di mio figlio essendo che mi emoziona vederlo in campo, è orgogliosa Però è bravo perché ne parlano tutti bene Sicuramente sì, se no non sarebbe a questi risultati di 50 gol Il Montepone non ha vinto, però è stata una stagione importante lo stesso Sì, è stata una bella stagione Voi tifate più per la squadra titolare o per gli esordienti, i pulcini, i giovanissimi? Io ho un figlio che gioca nella prima categoria e il piccolino non è giovanissimo E allora chi è il figlio che gioca in prima categoria? Sinopoli Ottimo calciatore E allora un saluto da parte delle mamme del Montepone che hanno accolto tanta gente qui in questa splendida domenica Saluto a tutti e forse Montepone Si sta giocando la finale della Coppa Calabria Tra Atletico senza Morrone e Maria Inschiavone Ma noi abbiamo l'occasione di sentire lui, il bomber L'uomo da oltre 20 gol, Marco Voci Che ha trascinato questo Montepone in una stagione comunque esaltante E ha una baglietta che parla da sola È l'ultima volta che parliamo di quest'annata del Montepone Quindi assist al bomber È stata una cavalcata trionfale, direi Credo che abbiamo meritato di vincere questo campionato Siamo contenti e la maglia dice tutto L'abbiamo fatto solo per Gregorio È stato l'uomo in più nelle occasioni difficili Nei momenti più difficili della stagione Quando eravamo sotto, soprattutto a meno 8 punti E c'è dato la forza per vincere questo campionato Ed è solo per lui questo campionato E oggi è una giornata bellissima Guardando la telecamera Hai tanti bambini della scuola calcio del Montepone Che vedono Marco Voci che segna e gioca bene Cosa diciamo? Un messaggio dai pulcini agli allievi No, dico solo che si devono divertire Ancora sono piccoli Spero che arrivino più avanti di quanto sono arrivato io Perché spero a tutti di diventare calciatori professionisti Però nel nostro piccolo abbiamo dato l'esempio anche noi Penso E a questa grande festa ha partecipato anche il Città di Rosarno Abbiamo Mister Perna Comunque avete vinto il vostro girone Oggi era una festa del calcio Vi siete divertiti Però Città di Rosarno ha detto la sua in questo campionato Sì, diciamo che sì Abbiamo fatto un ottimo campionato Poi alla fine anche meritato Anche se è arrivata all'ultima partita di campionato Però credo che alla fine i valori sono usciti fuori Quindi credo che l'abbiamo meritato tutto il campionato E soprattutto la sua è una bella squadra Ma molto compatta Sono tutti intorno a Mister Perna Salutiamo i suoi giocatori C'è qualcuno in particolare? No, in particolare No, un po' tutti Abbiamo fatto un gran gruppo Quest'anno sono contento per questo E forse il campionato l'ha vinto proprio il gruppo Ci abbiamo creduto dall'inizio tutti insieme E poi alla fine il gruppo è proprio quello che ha prevalso su tutto E questo è il calcio che ci piace Giornate come oggi aprono il cuore, Mister Eh, senza dubbio, sì Ce ne vorrebbero di più Forse la Lega dovrebbe organizzare qualcosina in più Proprio per far ritrovare squadre anche di gironi differenti Per poter fare queste manifestazioni e conoscerci un po' di più Sì, 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 sì L'atletico Senza Morrone dimostra di essere squadra di pregio e di categoria importante Perché subito dopo aver perso i rigori la Coppa Calabria Mister Spinelli è qui ai nostri microfoni Nulla toglie alla sconfitta una splendida giornata di calcio Sicuramente c'era solo da Da far sì che questa giornata fosse una giornata di sport Quindi ci siamo riusciti Penso che è stata una bellissima manifestazione Mi dispiace per i ragazzi Perché perdere i rigori non è bello per nessuno Sia dalla nostra parte che dall'altra parte Però il calcio è questo Siamo passati la prima ai rigori E la seconda siamo usciti Abbiamo perso onore e merito agli avversari Il Marina di Schiavonea vince la Supercoppa E' la squadra che è campione della prima categoria di tutti i gironi Mister Apicella, è stata tirata ma avete meritato? Assolutamente sì Dopo una lunghissima stagione estenuante, snervante Dove abbiamo condotto dall'inizio fino alla fine Poi le forze alla fine sono venute un po' a mancare Però noi siamo arrivati qua oggi concentrati, vogliosi Sapendo la forza delle squadre avversari Ce la siamo giocati a viso aperto con le altre E fortunatamente e penso meritatamente Le abbiamo portate a casa Alla fine avete sconfitto la corazzata Morrone Ci credevate o è stato un fatto casuale? Assolutamente, sapevamo della grandissima squadra Morrone Però noi l'abbiamo affrontata a viso aperto E chi ha visto la partita penso che poi alla fine Anche nonostante i rigori l'abbiamo vinta meritatamente E c'è la super passata E finisce la super cotta Grazie!